Ciao a tutti carissimi amici di astaradio.com e di sottosuolo ovviamente mente, diciottesima puntata se non erro, finalmente abbiamo un ospite dopo tanto in studio e soprattutto qui e non noi fuori a intervistare gente, siamo in compagnia di François Beaumartin. Esatto, francese, diciottesima puntata quindi siamo maggiorenni oggi, oggi è compleanno quindi brindiamo a tutto lo staff. Per gli amici Francesco Beaumartini, giornalista pubblicista che dopo mi spieghi il termine corretto di pubblicista perché mi ha reso la mattinata un po' isterica. Lo so, ogni volta che lo dico infatti vedo la gente che iniziava a citare. Come me stamattina. Pubblicista dal 2010, scrivi sull'arena, su Rumore, ExitWell, sei giudice del premio Tenco e targa giovani del MEI e autore del miglior libro Indie 2013 del MEI. Sottolineiamo Indie. No, l'ho messo proprio in grande. Perché se fosse stato il miglior libro 2013 c'era da preoccuparsi. Esatto, il best seller, proprio con la fascia rossa in copertina. La fascia rossa per il vietato ai minori. No, infatti ti dirò che proprio quel miglior libro Indie mi ha un po' accaponato la pelle nonostante io l'abbia preso, letto, però ultimamente comincia a spaventarmi come termine. Anche a me è un po', è per quello che ci vado incontro perché i problemi vanno affrontati, non bisogna scappare. Quindi mi sono detto, su consiglio anche della casa editrice di Arcana, insomma diamo un seguito a quel povero riserva indipendente e così è venuto fuori un libro dal titolo originalissimo Fuori dalla riserva indipendente, quindi sottolineerei in questo caso Fuori dalla, che non è riferito a Lucio Dalla ovviamente. Il sottotitolo è Dietro le quinte degli anni dieci, proprio perché ci troviamo ad intraprendere un percorso a livello di tempistiche che riguarda un'altra parte del nuovo millennio, quindi se il libro precedente era focalizzato soprattutto diciamo così nel decennio che va dagli anni 2000, dal 2000 al 2010, in quest'ultimo ho cercato di concentrarmi un po' di più sull'aspetto musicale più attuale, ovviamente non tralasciando comunque artisti che hanno una storia un po' più lunga insomma Ok, volevo però partire prima da te come persona e non dal libro, dopo andiamo anche su di quello Come Bonmartin Esatto, come François Bonmartin, questa è la tua professione, giusto? Cioè tu ci fai la spesa scrivendo articoli, recensioni eccetera? C'è l'altro che no Hai la coscienza pulita? Sì, ho la coscienza, oddio, sì poi dipende, ci sono vari affratti Comunque aspetta, così concludo la domanda e poi parti a Raffica, in sostanza il giornalismo è un settore di quelli non messi proprio bene bene, a meno che non sia giornalismo sportivo che allora se si parla di calcio va tutto bene, in sostanza come va la tua vita professionale? Allora la mia vita professionale diciamo che è parallela e non si incontra quasi mai con l'ambito del giornalismo, nel senso che sì, io mi occupo di comunicazione nella vita professionale Per quanto riguarda invece quella che volevo fosse la mia vita professionale e che in realtà si è poi configurata come hobby se non diciamo secondo lavoro in alcuni casi però rimarrei più sulla prima definizione va altrettanto bene se vogliamo da un punto di vista delle soddisfazioni perché comunque come già detto Riserva Indipendente mi ha dato delle soddisfazioni mi ha permesso anche un po' di girare, insomma di presentare l'opera e di conoscere anche tante persone più o meno interessanti ma la maggior parte devo dire interessanti insomma si sono sviluppate una serie di situazioni che non avrei nemmeno immaginato prima di scriverlo e poi per quanto riguarda il giornalismo a livello di riviste come dicevi tu giustamente Rumore, Exit Well, Prima Nero in un ambito musicale ho scritto anche qualcosina su Il Mucchio Selvaggio in passato qualcosina su Classics e uscendo dall'ambito musicale invece l'Arena è una collaborazione lunga che è iniziata nel 2007 ed è quella sulla quale inizialmente basavo un pochino diciamo i miei sogni da giornalista poi mi sono reso conto che un po' per il discorso famoso della crisi che bisogna metterci dentro sempre anche quando si parla di musica anzi soprattutto e poi quando si parla di giornalismo musicale proprio casca l'asino ovviamente mi sono reso conto che forse non era il caso di puntare solo unicamente su questo ambito quindi sei partito come giornalista in che settore? beh all'inizio scrivevo Cronaca di Villa Franca Villa Franca diciamo lo suo buono più caldo il referente di zona e poi col tempo ho cercato di scrivere un po' di spettacoli ma all'Arena diciamo le posizioni sono già abbastanza salde e quindi ho cercato di scrivere qualcosina qualcosina mi è stato pubblicato ma non abbastanza per rendermi felice dal punto di vista del giornalismo musicale quindi ho incominciato a cercare di collaborare non è stato facile non ho avuto diciamo spinte esterne giusto per essere chiari anche perché spinte verso un non godagno insomma sono anche relative se vogliamo però insomma diciamo che per il momento riesco abbastanza ad equilibrare l'aspetto monetario che è da tutt'altra parte e con l'aspetto invece hobbistico e di passione musicale ok torniamo al presente e quindi oggi sei mia compagnia oltre alla ovviamente consueta chiacchierata nel sottosuolo da collega quasi sei qui per presentare appunto come già anticipato prima la tua nuova fatica la tua ultima fatica se di fatica si tratta fuori dalla riserva indipendente dietro le quinte degli anni dieci che è uscito esattamente il 18 giusto sono quindi il primo che ha l'onore di intervistarti sì a livello video sicuramente sì ok proprio oggi vabbè ho risposto all'intervista ma non devo ancora uscire quindi oh cavolo che ha cavallamenti temporali vabbè per lo stesso comunque sì 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 sono il primo perfetto assolutamente è stata una fatica perché comunque sia dietro ad un libro diciamo di 288 8 pagine più o meno quindi quasi 50 in più rispetto al precedente e un libro di interviste un saggio con 6 approfondimenti tematici fotografie inedite diciamo che servono a coordinazione servono energie dedicate alle interviste trascrizioni riletture e anche appunto la creazione di iscritti da zero quindi sì è un lavoro che è cominciato ad aprile del 2014 ed è terminato in questi giorni diciamo appunto con l'uscita fisica del libro insomma che potete vedere qui ok partiamo proprio dal titolo come hai già detto prima però io ho colto prima in realtà il dietro le quinte cioè a me personalmente mi ha fatto subito immaginare una sorta di teatrino dove c'è chi dirige degli errori esatto degli errori degli errori dove c'è chi muove i fili li gestisce ovviamente sul palco di questa industria discografica perché alla fine è un'industria c'è anche chi deve recitare su questo palco cioè è una visione distorta mia o c'è un nesso tra quello che ho captato io dal titolo sono io che sono malato di mente me la vedo così diciamo sono malato di mente no 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 diciamo che non era stato pensato originariamente in questo senso era più io l'avevo proposto perché comunque sia nelle interviste ci sono sono svelati diciamo alcuni segreti ad alcune cose che non sono visibili diciamo normalmente degli artisti quindi il tentativo di focalizzare quella che è la dimensione indipendente qual dir si voglia viene chiamata dai più così quindi io mi vedo anche fra virgolette un po' costretto a continuare ad utilizzare questo tipo di terminologia cercare appunto di focalizzarla attraverso le parole dei protagonisti quindi dietro le quinte è un po' modo di dare anche il valore che forse si meritano gli attori principali di tutto ciò vale a dire i musicisti stessi però effettivamente dietro le quinte ci stanno anche i lavoratori quelli che diciamo così non si vedono sui palchi quelli che non si vedono sui palchi sono ad esempio gli uffici stampa le etichette che sono citati nel tuo libro che sono citati e che mi sembrava giusto insomma includere qui in questo libro ce ne sono sei ma sei profondimenti in cui sono appunto inseriti alcuni di questi attori nel precedente che lo faccio vedere insomma che ce l'ho qua e ce ne sono altri altri sei di approfondimenti anche qua sono trattati altre tipologie di corollari riguardanti riguardanti questo questo stile di musica e stile di approccio anche culturale se vogliamo ok quindi quindi direi che il sì ci può stare cioè nel senso il tuo pensiero è molto valido ok grazie mi lusinga e e tornando a quello proprio che hai accennato tu prima quel fuori dalla riserva per cosa sta quel fuori dalla riserva ecco il fuori dalla riserva è un'ulteriore provocazione rispetto a riserva indipendente allora se riserva indipendente andava a letto un po' come un modo anche romantico di dire guardate che qui comunque fra questi artisti intervistati ci sono anche dei fra virgolette leader che dettano in qualche modo almeno in Italia una certa visione musicale culturale e testuale che si discosta dal dal mainstream o comunque da una visione un pochino più comune diciamo così guardate che ci sono anche quelli qua invece si dice guardate che ultimamente anche per via della crisi economica che c'è mainstream e indipendente stanno iniziando ad essere diciamo un po' crossoverati per qualcuno addirittura un po' troppo nel senso che in alcuni casi i confini non sono più così visibili come invece magari potevano essere dieci anni fa insomma quando ancora l'industria discografica a cui ho fatto riferimento prima aveva delle carte da giocare un po' più remunerative di quelle attuali in questo momento in cui parliamo la crisi economica a livello discografico colpisce non solo l'ambito della produzione fisica dei dischi ma anche un pochino di più l'aspetto del live che ha avuto una pressione a certi livelli perché poi invece gli esperti potrebbero dirti che i concerti magari più costosi in realtà addirittura stanno meglio che mai perché non c'è limite al peggio in Italia ma sì però è anche vero che insomma i nomi di richiamo giustamente diciamo il prezzo è anche spesso tarato sull'effettiva capacità di richiamo dei singoli artisti insomma e richiamo non significa qualità ci sono una serie di parentesi da aprire però direi che le conosciamo già in sostanza e le conoscono sicuramente i tuoi ascoltatori esatto gli ascoltatori di Asta Radio che sono ascoltatori attenti i vostri ascoltatori esatto ok senza addentrarci troppo nel libro per non togliere curiosità ai futuri lettori senti più speranza o una certa rassegnazione tra gli artisti che hai intervistato te lo chiedo so che può essere una domanda stupida perché chi è intervistato è gente che fa musica quindi ce l'avrà la speranza se non avrebbe già smesso però te lo chiedo perché tra loro c'è chi è chiaramente una nuova leva del settore e chi è molto 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 navigato in questo ambiente allora a me sorprende sempre invece sì la speranza che 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 mi trasmettono genericamente tutti gli artisti al di là di Giorgio Canali che diciamo non trasmette molto speranza la domanda era molto riferita a lui perché è tendenzialmente scontroso e se ci sta guardando lo saluto che tra l'altro è stato intervistato proprio da te insomma un paio di puntate la prima puntata e a parte diciamo alcuni casi i nuovi soprattutto per dire anche mi ricordo ho parlato con il chitarrista dei Fast Animal & Slow Kids me lo ricordo molto propositivo altrettanto il leader dei management del dolore post-operatorio che comunque ha detto delle cose veramente interessanti anche approfondite su una serie di a una serie di livelli quindi direi direi che più trasmettono più ottimismo e sicuramente più di quello che provo io vedendo diciamo certi dietro le quinte che insomma sarà un romantico di natura però mi fanno pescare le balls come si dice in francese quindi è qualcosa che ci potresti raccontare di particolare se parli di questi dietro le quinte no ma dietro le quinte non sono intesi ovviamente di quello di cui parlo nel libro però dico proprio a livello concertistico comunque quando vai ad intervistare genericamente hai la possibilità e anche l'obbligo di essere lì un po' prima di vedere una serie di dinamiche che magari da pubblico faresti fatica e magari neanche ti interessa diciamo vedere perché tu di solito da pubblico arrivi lì ti fai la tua birra ti fai quello che devi fare ti guardi il concerto cerchi di divertirti si spera e ha ognuno a suo modo e poi te ne vai a casa invece chi chi ha diciamo così un approccio cronachistico come come ce l'ho io o comunque giornalistico ha bisogno di approfondire e di conseguenza anche di approfondire delle cose che poi mi rendo conto alla lunga possono anche intaccare un po' la magia cosa che sarebbe meglio non sapere alle volte si alle volte diciamo che se sei un po' più corazzato sarebbe meglio perché ti fai un po' più addosso la corazza magari te la fai proprio con l'esperienza si esatto anche adesso voglio sapere da te appunto questi dietro le quinte hai già citato un paio di personaggi ma chi è stato il più tosto da intervistare e chi invece ti ha messo più a tuo agio nel confrontarvi e voglio anche sapere se sei più a tuo agio da quella parte o da questa allora la seconda domanda è molto difficile perché vabbè in questo momento devo dire che mi trovo a mio agio insomma che non si trova a proprio agio a sottosuolo no beh a sottosuolo in generale nessuno assolutamente anzi tutti quelli che sono stati a sottosuolo me ne hanno parlato proprio per quello che sono qua infatti perché noi non ci conosciamo in realtà di la verità è sbagliato il mio nome mi hai chiamato in francese io invece sono italianissimo però a parte quello diciamo in entrambi dipende chiaramente un po' dai momenti e dalle perché comunque sia quando intervisto artisti tendo ad essere molto comunque ad avere delle delle attese e anche a volte anche ad agitarmi per dire prima di intervistare Giorgio Canali devo dire che per me insomma rappresenta qualcosa così come rappresenta per tanti quindi l'hype il famoso hype di cui si parla ogni tanto un po' ha un effetto effettivo sull'approccio all'intervista e per quanto riguarda invece la prima domanda che hai fatto mi sono trovato sicuramente particolarmente a mio agio con Egleson Macal il chitarrista del massimo volume che mi ha stupito per la giovialità io l'avevo visto l'avevo visto anche lui in solitaria tra l'altro prossimamente suonerà insomma anche qua a Verona giusto? mi sfugge questa data però mi fido anche di te insomma ne sai anche tu abbastanza e anch'io mi fido di te come direbbe il buon Lorenzo esatto come direbbe anche tra l'altro Giorgio Canali che ha fatto la cover di Giovanni è vero come quella che ha fatto quindi siamo sempre sul pezzo noi anche se sempre riusciamo in realtà siamo sempre qui e dicevo Gioviale nonostante lui musicalmente parlando sia abbastanza tostino soprattutto quando è da solo come Egleson Macal e poi mi sono trovato diciamo Canali ti ho già detto particolarmente scontroso sapevo già più o meno fa un po' parte del personaggio sì 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 abbiamo cercato di punzecchiarci a vicenda tra l'altro mi risponde in maniera diciamo abbastanza informale anche via facebook senza problemi quindi vedo che proprio il suo approccio insomma io lo apprezzo anche è stato molto interessante intervistare il bassista degli Zoo che ha una storia recente abbastanza tosta vive da qualche anno in amazzonia lontano dal mondo ha scelto addirittura ha venduto la casa non ha nessun tipo di casa vive là e torna solamente per fare i tour praticamente hanno preso un nuovo batterista insomma il Zoo volevo intervistare già nel primo ma nel primo erano reperibili proprio perché lui aveva fatto questa scelta e loro erano erano mezzi sciolti praticamente infatti poi sono formati i mombu e tutte le derivazioni insomma molto interessante Umberto Maria Giardini Umberto Maria Giardini secondo me ha un tipo di approccio diversissimo dalla media così come c'era Marco Iacampo che è un è un chitarrista cantautore e cantante veramente fantastico italiano solo di provenienza ma come mentalità non è facilmente classificabile e che consiglio a tutti quelli che non lo conoscono so che sono parecchi poi è stato beh Illuminal anche sono dei personaggini mica da scherzo e beh Daniele Celona direi anche è sempre uno che mi dà molti stimoli insomma sia a livello musicale che a livello di parole è come un gitano dietro al suo ventaglio una gitana dietro la sua ventaglia di letteratura torniamo in compagnia di Francesco Bonmartini allora dopo questa tua seconda esperienza in base a ciò che hai trascritto dei punti di vista di questo bel movimento che è il movimento indie lo chiamiamo così sì dai chiamiamo così indie in Italia cosa ti sentiresti di suggerire a chi ambisce a muoversi in questa direzione ovvero fare musica e avviarsi all'attività di musicista chi spera ancora di poterlo fare e anche chi vorrebbe muoversi nella tua direzione cioè quella di giornalista musicale anche se ormai li hai già distrutti all'inizio dicendo che non vale la pena per quanto riguarda l'attività di musicista che è un sogno che tra l'altro ha sempre fatto parte un po' del mio immaginario erotico i sogni che ti svegli di notte tutto sudato sognando gruppi che abbiamo intervistato noi sì esatto io ero più sugli slayer quindi la mia schizofrenia musicale non ha limite però mi sarebbe sempre piaciuto perché è un tipo di vita per come la vedo io dove c'è una ricerca continua una voglia di esternare comunque i tuoi sentimenti le tue emozioni quindi è molto molto bello ed è uno dei motivi per cui c'è originari per cui seguo la musica alla fine perché per il fatto di comunicare trasmettere condividere è sempre bello insomma detto questo beh bisognerebbe innanzitutto non avere un lavoro perché che non è cosa difficile di questi tempi non avere un lavoro infatti no ma è per quello mi aspettavo il commento ma io l'ho detto apposta perché so che in questo periodo c'è la gente ci sono addirittura i ragazzi che so che non cercano nemmeno lavoro perché ormai sono talmente sfiduciati beh a quel punto a quel punto metti a suonare infatti c'è pieno di band infatti c'è pieno di band e pochissimi locali che ti fanno suonare perché servono lo sold quindi direi vabbè adesso parte gli scherzi ovviamente se uno vuole concentrarsi davvero fino in fondo c'è un gruppo di Verona ad esempio i CPC Maxigross che ci stanno provando con tra virgolette tutte le forze hanno creato la loro etichetta la Vaggimal hanno creato la loro promozione che è la Vallata Promotion e suonano tanto in giro come CPC insomma hanno cercato di creare un circolo attorno a loro dove so per chi per esperienza ha avuto modo di vedere che lavorano seriamente e cercano nel loro ambito di fare del loro meglio quello ad esempio quello potrebbe essere un buon esempio diciamo perseguibile per chi vuole fare della musica la propria vita che poi fare della musica la propria vita non significa trarre dalla musica benefici economici particolarmente interessanti soprattutto se sei un gruppo da 5 persone o 4 se sei una one man band che riesci a tirarsi su 200-300 euro al concerto magari riesci a se fai karaoke matrimoni sì anche anche infatti chi ha quell'obiettivo lì o anche come obiettivo corollario comunque c'è sempre quella via lì è difficile perché oggi c'è un sovraffollamento c'è un'offerta enorme una domanda che mi sembra quasi un po' in discesa nonostante gli stimoli si cerchi di dare sempre stimoli ma questi stimoli siano un po' anacquati perché poi quando sono troppi il troppo stroppia davvero e quindi il fatto di sentire musica in ogni dove il fatto di diciamo essere indottrinati da parte di varie persone magari viene recepito un po' quasi come un'aggressione un'attacco insomma e porta la gente paradossalmente a fare il contrario è come condividere troppi post all'interno di una pagina facebook magari la gente invece ti apprezza anche ma dopo un po' dice che rottura di coglioni insomma e si toglie da passi allo spam giusto per fare una metafora dei nostri tempi poi invece mi dicevi per fare giornalista musicale giornalista musicale se avete passione per la musica e pensate di allora innanzitutto bisognerebbe secondo me ascoltare tanto continuare a leggere recensioni continuare a leggere interviste continuare a leggere articoli sempre proprio come esercizio quasi sì però dovrebbe venire naturale sì dovresti essere mossa da una passione sì esatto perché non ti muove nient'altro nel senso che non c'è niente altro allora adesso se parliamo di riviste Rumore Il Mucchio Roccherilla Blow Up Buscadero Blow Up queste cinque diciamo sono un po' le riviste musicali prettamente italiane chi paga paga molto poco e sicuramente è solo per un hobby cioè solo con questa finaletta qua poi se parliamo di Rolling Stone se parliamo di classic rock magari o di qualcos'altro troviamo qualcosina di più ma lo stesso rimane solamente un qualcosa di hobbystico a meno che non sia all'interno della redazione ma lì si possono contare sulle dita di una mano quelli che sono dentro tutte le redazioni musicali d'Italia comprendendo addirittura le reti televisive quindi ormai diciamo dal punto di vista giornalistico la situazione è questa in questo momento sicuramente se volete entrare in questo mondo io ve lo sconsiglio però vabbè fate l'obis ascoltate tanto leggete leggete tanto leggete bene e formatevi una vostra capacità critica cercate di essere onesti con voi stessi prima che colga altri però di solito le due cose dovrebbero andare di pari passo fatevi molti nemici è molto onore esatto non volevo non volevo citare diciamo una frase un po' così scomoda e anche un po' sovrautilizzata fate un po' di goliardia però no senza esagerare nel senso che vedo che ci sono una serie di realtà per esempio il teatrino degli errori il teatrino degli errori cosa fa fa recensioni provocatoriamente negative continuamente negative su alcune sono stra d'accordo e stanno avendo anche il loro bel riscontro però il riscontro diciamo da facebook è diverso secondo me da riscontro della vita reale cioè c'è un gap c'è un gap io direi di rimanere sempre un po' sull'aspetto cronachistico e critico del giornalismo secondo me perché io faccio così poi qualcun altro vuole fare diversamente easy ok quindi in sostanza dai si fatelo sia il musicista che il giornalista ma sappiate che fatelo per passione si in linea di massima io direi anche chi lo fa per professione alla fine lo fa comunque mosso dalla passione più che da o mosso dalla voglia di andare a sottosuolo a farsi intervistare tutti adesso bussano la porta per entrare ma li stiamo tenendo fuori con gli scimmioni ok ultimissima domanda adesso legge il microfono come il to the beat di Bologna come l'emmy dei motore esatto tanto il baffo comincia a essere quello quasi si esatto ok non ho la stessa età proprio è il tuo momento un momento promo massiccia dove trovarti dove trovare il libro appuntamenti presentazioni siti blog eccetera eccetera allora il libro l'ho trovato se volete mi iscrivete a fra.bomba at gmail punto com che non sta per fratebomba come tanti insomma mi dicono ho un po' di cerega che ricorda diciamo ma ancora non così non così tanta il libro che è questo lo trovate anche allora sugli store digitali Amazon IBS sul sito di Arkana e altri e altri store lo trovate nelle librerie di tutta Italia poi magari chi non ce l'ha comunque genericamente può essere facilmente ordinato sicuramente il circuito Feltrinelli è ben fornito però so anche quello Mondadori quindi non dovrebbero esserci grossi problemi lo troverete anche vi invito insomma a venire alle presentazioni le presentazioni saranno pubblicate sulla pagina facebook ufficiale che si chiama riserva indipendente la trovate con la copertina del nuovo libro fissatela bene in testa la cover è la copertina del nuovo libro e per adesso di programmate c'è il 17 di marzo alla Feltrinelli di Verona ancora diciamo da definire per quanto riguarda gli ospiti eccetera però comunque alle 18 il 17 di marzo sarò a Verona e ci sono in ballo una serie di città c'è Treviso Trento Pavia Bologna avere una stessa per altri luoghi adesso vedremo con il passare del tempo se qualcun altro sarà interessato a presentare il libro eventualmente l'ideale sarebbe proprio magari ospitato o cospitato con gli artisti intervistati così che si possa anche creare un dialogo o se non un dialogo a parole quanto meno un dialogo musical parlato musical parlato musical parlato un reading suonato esatto hai anche siti internet dove seguirti o hai solo facebook ho solo facebook perché faccio un po' di economia no dai scherzo ho anche il blog si chiama riservaindipendente punto wordpress punto com non ho comprato il dominio perché spendere 18 euro all'anno di questi tempi è un po' oneroso tanto la visibilità te la hai lo stesso sì esatto il libro infatti costa 19,50 proprio perché prossimamente vorrei comprare il dominio aspetta pesa pesa quanto pesa 415 grammi 288 pagine ha cominciato ha cominciato a muovere i primi passi ad aprile del 2014 è alto 288 pagine e pesa 415 grammi pesa di più come potete vedere più alto rispetto al suo al suo padre ok io sono tuo padre è un'automoso e quindi ecco insomma ci ritroviamo qui con due libri se volete noi siamo io sono disponibile a cederveli loro hanno tante cose da raccontarvi se voi avrete la pazienza di ascoltarli sicuramente rimarrete soddisfatti o forse no aspetteremo quindi la trilogia perché ci vuole anche il terzo comincia già questa è la prima volta che me lo dico e devo dire che non l'avevo mai ragionato in questo senso comincia però paraprasando Darth Fener in effetti hai avuto una buona idea io credo che se ci fosse un terzo almeno almeno fra 5 anni almeno per passare agli anni 20 sì esatto torniamo negli anni 20 poi via così no però sinceramente qua ci sono tante interviste in questi due libri ci sono tanti approfondimenti confermo il primo l'ho letto credo di aver sviscerato parecchio e abbastanza questo tema quindi eventualmente nel futuro se scriverò qualcos'altro vedrò di variare insomma anche per non romper gli debedei ulteriormente ma insomma ma il bello di un libro è che non è mai troppo invadente poi sembra lasciarlo là chiuso sì esatto poi noi abbiamo fatto una bella copertina con arcana proprio perché insomma anche mettendolo così c'è sempre che ci sia lo scotch ma già archiviato sì esatto poi la grafica è molto simile quindi richiama abbastanza si richiamano l'altro infatti anche quando sono distanti si richiamano proprio di puoi sentire parlare da una stanza all'altra ed è sempre un'emozione che fa bene al cuore ok e con questi deliri direi che possiamo dichiarare conclusa questa chiacchierata con francesco bommartini autore di riserva indipendente e fuori dalla riserva indipendente il neo il neonato sì ti ringraziamo per essere stato qua con noi grazie a voi grazie a te Alberto grazie a tutti i lavoratori dietro le quinte di sottosuolo che anche qua abbiamo il dietro le quinte esatto dietro le quinte degli anni dieci non so si può augurare la buona vendita del libro io mi auguro di sì te l'auguro di cuore spero di riuscire a venire a sentire qualche presentazione come ho già fatto in passato sì dai 11.000 copie esatto e poi ti vogliamo girare in Rolls Royce esatto qua davanti la Rolls Royce indipendente no no sarebbe una bruttura veramente vabbè che ormai è tutto valido però bene grazie ancora grazie a voi e auguri per tutto grazie altrettanto